ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa quinta parte di pokemon light platinum sempre con zumpafossi e con cua esatto beh finché siamo qui continuiamo a registrare esmeralda city che ha preso fuoco ma quella sarebbe un incendio si come sembra le fiammette vabbè sono comunque un incendio abbiamo tweak una donna dalla capa azzurra si altre capi e qui ci sono asce è asce e red sono sono quasi la stessa persona ma non proprio sono glad di vederti il team steam ora c'è una steam uniforme si cioè che questa è una cosa che mi piace no no da nulla appare un gerdus usare in data spegne l'incendio esatto spegne l'incendio ma gli chiedi asciugusto eh non ci ho fatto caso no penso sia di red ok no aspetta com'è che dovrebbe essere di red perchè asciugno asciugna in teoria non ha red e asciugno aspetta mi sto confondendo è asciugna san san ecco lo che volevo farti capire che figata posso diventare uno perchè corro più veloce se ho la steam uniform perchè tipo come fosse una bici e comunque eh innanzitutto aspetta lo sapevo l'hanno sostituito alla bici da cross che cazzata minchia mi sento un super eroe puoi saltare lo zumpafossi e lo zumpafossi e lo zumpafossi zumpafossi vuol dire salta fossi no non posso più mettermela eh no no e qui comunque prendi il rio un pacchetto a rio si vengono a rezzogna si fa piacere absorbiamo tutto solo tanto perchè poi lo sai che la palestra erba lui andrà in secondo piano perchè finchè c'hanno dei sandali diventerà il fatto numero uno finchè c'hanno dei sandali come pokemon furikute lo sbagliato absorb, cute magari ma anche si va bene cute lui ne dà di esperienza direi è un goalbat è un pipistrello che va in goal no 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 andiamo avanti è un grande attaccante sicuramente è meglio questa è la giusta punizione sicuramente è meglio sicuramente è meglio di un bentner vabbè chiunque è meglio di bentner anche io se giocassi a caccia sarei meglio di bentner nessuno è peggio di bentner ma hanno tutti un sandali alla fine così sembra se no come camminano prima c'era il fuoco come camminano a piedi scalzi no devono mettere dei sandali giustamente non hanno l'esempio della corsa passi questo pursuit devi usare che è pursuit? ah già spettro mi dimenticavo se non ci fosse qui zumpa se non ci fosse io con il mio commento tecnico infatti ti ho chiamato apposta non è che absorbe tu se no non avresti motivo di esistere io ti porto visualizzazioni è scientificamente provato la gente mi ama però noi ancora non abbiamo capito come mai c'è i capelli rossi ma io non ho i capelli io non ho i capelli è pelato ragazzi ci credono tutti sicuramente io ti ho detto di allenarlo questo è vero sempre è meglio spammare lui che poi arriva tipo al 30 e mi fa forse non hai capito che non può usarlo più di due più di una volta ti ho usato la mossa quella stronza la provocazione ti ha provoca in gas ascello 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 oggi ti puzzavano le ascello in classica la fa schifo oggi sono dato come un porco pur sottiamolo chiedo scusa chiedo scusa ok puoi andare no vai a destra posso scegliere no a destra c'è Zorua a destra c'è Zorua molto bene inibitor no no pur suite certo che ragioni ma sempre oddio è giusto è giusto va bene che culo lo imparava prima ero sicuro ah beh tra 6 livelli e beh chiamalo scemo grande leaf blade finalmente una mossa figa boh ma qui ci andiamo a spammo per il resto dei nostri giorni ma così vuoi prendere Zorua ricevo Zorua fine ma che livello è però giusto per sapere al 5 ma giusto allena un po' a Kimbo te lo tieni te lo tieni Zorua e dagli il fortuno anche Sasha dagli il fortuno bag ah già che aveva il fortuno io so cosa lo devo fare sempre item take item give sai l'inglese mi dicono traduci tu la prossima volta va visto che ti senti così l'inglese anche io ti va a dare magari give 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 significa dai take significa prendi 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 e dai dai gente che si correga su skype che tipo è sempre lo stesso che si è collegato 5 volte così ma se tu passi di qua non puoi si che puoi vabbè ma for mai qui c'è l'una ah di nuovo lei come è già che si chiama era talmente utile che mi so dire il nome a shayla shayla hai shayla shaylo te shaylo te e avrà un un sheptyle uno sheptyle uno shellows uno shellows che 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 uno shellows qua piazza c e cosa c'è grace che usa morso magari ma andava bene anche così morso magari è super efficace non cevamo lo stesso lei con la bocca ci sa fare vai vai avanti di di ma quanto è brutto no si effettivamente è un po' un po' un po' solo un po' solo un po' metti qui la usa zoro sicuramente avrebbe battuto sicuramente ce ne sono altri da battere spero proprio no poi non è una capopalestra non è una capopalestra erano lì per rubare una capopalestra si eh aiutarli sono esmeralda la capopalestra la capopalestra fantasia ci sta esmeralda capopalestra esmeralda capelli verdi grazie per il tuo aiuto esmeralda e io abbiamo catturato vabbè non ci interessa quello dal team steam che stavano la sfera rossa e la sfera blu stavano ricercando la sfera blu la sfera rossa il team steam ha rubato le ha rubate perché hanno un grande terribile potere la nostra ricerca sulle sfere ci dice che sono molto piccolose quello è il pro pro non lo so ma hai capelli bianchi teoricamente ma non ci credo non parla l'hanno fatto non l'abbiamo ma lo smaschera eh eh anti schiamo non va no ok per chi non so è sparito è sparito che cazzo questa sarà il prossimo mistero di creepy games è sparito ecco no non è lui non è lui non è lui è un altro non è neanche lui è sparito è scompaggioso è scompaggioso è scompaggioso ok vediamo se ti danno qualcosa di utero ne dubito niente no quelli che girano non ti danno mai niente tu ah non ho bastanti ah ti dà l'uomo divi questo ok non se ti dà l'uomo devi dire scusa scrivi no di solito devi dirgli si stavate dovuto dir no è un uomo divi ok basterà fare così ci sarà tempo grazie tu un po' senza il tuo aiuto non ce l'avremmo fatta anche se noi abbiamo il pokemon al 100 ciao questo su cui è spaesato non so cosa ci fa qui ok possiamo entrare a battere la palestra erba erba vabbè teniamo a Kimbo dai tanto è un cole 8 l'abbiamo fatto pin missile pin missile pin gli dato il furtuno uovo si quindi aveva bomba eh spara bomba si degna di rispondere senti 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 dici tutto cacchina è un buon pokemon ma non è un grandissimo pokemon anzi diciamo è un po' mezzamico modesto è una pianta di cachi insomma diciamo insomma tu sei un cactus perchè devi dire pianta di cachi cacchina cacchina ma lo dice il nome stesso fa cacchina cacchina fa cacchina io vi saluto robo vera che sei imprevedibile l'hai già fatto ok è finito il suo isolamento ha deciso di di tornare in patria ießenza di noi non vive ha un po' di palestra va senza di noi non vive dunque il tuo frullato è meglio perchè frullato è meglio mentre voi allenati pokemon io alleno me stesso adesso mi raccomando ci crede Non sto scherzando, sto facendo i pesi Mentre voi non mi vedete Scary face è... No, è visotruce Visotruce Cos'hai detto, viso? Visotruce Ah, ok Direi di mettere Sasha Graham Non ha nessun senso Questi paralizzano solo Paralizzano, avvelenano, spammono Annoyer, sono tutti annoier Schifosi annoi È come forza E come fai a spostarlo? Così, dal nulla Che cazzata è? Scusa, è facilissimo Non è neanche un enigma Vabbè, andiamo avanti Un grotto Un grotto Che vive nelle grotto Ti prego, no Sto spaccando tutti Rompi il mobile La scrivania viene distrutta da zumpa selvatico Zumpa allenato Posso spammare lui Io vi terrei Brusato È brusato Se vuoi valtre in da sei Abbiamo fatto l'uovo alla cocco Alla cocktail L'uovo alla cocco Alla cocco Non è cosa fare? L'uovo alla cazzo Alla big cocco Abbiamo fatto un uovo alla cazzo Aspetta No E se gli mettevi una cazzo davanti Aspetta Ma che uomo sei? Sei un genio Se lui non ti vede Se lo scosse ti metti dentro la cazzo Ti lascattala E' chi è metteria a soli È vero roba Aspetta Roba Roba Solo ad alto livello Solo per gente buono Solo per numeri Solo per gente pro Solo per gente che ti copie i pokemon Alla fine È il più forte lui Cosa copia? Ah no Questo è random E mo? E mo Adesso Ma ci sta Ci sta Ma usiamo la tecnica Quella che ha detto lui Della scatola Io mi figlio Vabbè no Battino poi Perché comunque La esperienza è un'esperienza Però La esperienza è un'esperienza Quindi adesso si sfonde un po' la cazzo Per passare Perché non va Dai sei Aspetta Secondo me ci vuoi No No È impossibile Scientificamente improbabile Lui è entrato dentro la cazzo E lui è diventato la cazzo E spingerà più Ora lui non è più Né un uomo Né una cazza Ma è qualcosa di nuovo Che gli scienziati Ancora non sanno spiegare Sai come l'hanno chiamato? Antonio Cassanova Antonio Cassano A sto punto Lo squallore Lo squallore E che poi si chiama Giovanni One Juan Carlo Zuniga Che poi non è Juan Carlo Ma è Juan Camillo Penso Ponte di Cavour Ok Ho ammato a sto punto Ho ammato a curva Vai sta sparando a mia cazzo Se cominciò a parlare in rumeno Non la finiamo più C'è cometeranno solo in rumeno Però Seriamente? Ok Dai Ok Grande grande A Kimbo Vai colarteli Sto cazzo No ma no Devi battere un su Porca ma Non avevo notato che c'hanno il Pokémon più forte fuori dall'espera Infatti Anche prima era così C'è l'hai mezzo morto Cosa fa? Ma si Aspera Abbiamo un altro No ma no Devi comprarne altre però poi Tacite Tacite Stupide Divisaur Stupide Pueri E noi ci buttiamo il nostro Kimbo nella lotta Che poteva benissimo salire al 30 con un Pokémon selvatico Silenzio Non ho chiesto il tuo parere Tanto guarda Guarda non è difficile Basta che spami col fuoco Col pin A parte torterre Col missile pin Missile pin non va Missile pin non va Missile pin non va Non ce la farai Missile pin si è curato Non ero neanche neanche Missile pin Ma non è Ma si curano perché non ho visto tanto che si 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 Perché velocizi Non è che da nulla Che è già addormentato tre volte I viso Non ho notato Dai Dai Uttakume Che cazzo No Bite Si La goduria immensa Servine 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 Anche lui potrebbe venire al 30 È un Pokémon servile Al 29 Chiudo perdone Chiedo venia Chiedo Tortella 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 Grazie Non posso dirla No 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 Perché Comunque è stupido questo Non è che stupido È tarocco il Tortella Non può essere Il 27 non esiste Si evolve al 32 33 Tarocchissimo 32 E Junpluf che Pokémon ha Io l'ho avuto E l'avevo portato fino a 60 Ti giuro E otteniamo la medaglia verde Fantasia anche qui Con la medaglia verde tu puoi muovere Con la mossa Lava surf Vedi che non me la sono inventata Qui si può surfare sulla lava con una nuova meno chiamata lava surf Che io l'ho già trovata Te la regalano poi in seguito E in poche parole E in poche parole Aia Cosa? È un Niente Ehm All'animazione di Flash E toglie Ed è la stessa cosa di lanciafiamme praticamente Bene L'uomo diventato cassa Ora Non può Non può L'abbiamo chiuso E ora tu sei chiuso La vicenda Questo cazzo Vorremmo fare una cosa Ma Io so se Se la pensate come me Ma la soddisfazione Quando esci vittorioso Da una fottuta palestra Dipende Se non sparmi solo con un Pokémon No ho sbagliato Vabbè Ma dai Queste cose Volevo andarlo a chiudere Ok L'hai chiuso battendo Esatto Dai Andiamo a curare i Pokémon E direi che si può Si può concludere No 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 Direi che c'è ancora un pochettino di tempo Che magari giriamo la città magari Così Tanto con l'altro Tanto riceve il loot 47 Andiamo a fare acquisti magari Tu mi vendi qualche Lucky Punch Un fortun pugno Un fortun pugno Vuol dire che se tira un pugno avrai fortuna Scusa c'è una disputa Ho solo un pugno Per un pugno Non lo posso rubare No Pica 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 Sai che comunque non è che Tu bambino Eccolo qua Il famigerato nonno Nonno dormiente Chi non dorme non prende pesce Non piglia Non piglia magica Eh Avanzi 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 Vedi che ti conviene Avanzi Avanzi Stiamo facendo pubblicità Eppure male Che ti patiranno solo di copia Moneygrabber Ovvero ormai non ti arriverà più la partnership Anzi devi dare il tuo sogno Allora Vabbè diciamo che Tu Campegista Mordi la mica Guarda che tra poco si vuole il nostro Kimbo Io dico Sei già 37 39 Forse Se vi ricordo bene Potrei sbagliarmi eh Non prendete per vero Tutte le cazzate che dico Sono Per voi sono un dio Ma non troppo ragazzi Avete anche una vita Allenati pokemon Una vita Ma nella vita vivete da uomini Come me Da allenatori di pokemon Quante cazzate Tutti Uno che va avanti solo di Pane Filadelfia Ma questa è un'altra storia Che loro non conoscono E' un grandissimo uomo Vabbè non lo serve A colazione Prendete esempio da zumba A colazione pane E' filadelfia E' prosciutto crudo Il cuoco della nazionale di calcio E questa sigla E' la colazione dei Dei pancioni Il mio fisico Non so se lo vedete ma Sentite che bel rumore Ah Madò Censurato Ma hai fatto male Censurato Vabbè ma se mi fa male Censurato Però vabbè Lui non l'ha completata la bestemmia Quindi volendo Quindi censurata a metà Madò Madò Madonna la cantante Eh porca madò Cioè non esiste una cosa Che non sia Madonna Madò Ma dove vai Porca ma dove vai Ma dove vai Tanto oramai Sei mia Ma qua ho notato Che non ci sono Come si chiamano I frutti Sono tu vai a vedere queste cose No come si chiamano Le bacche Le bacche Le chicocche Qui sono le bandierine No 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 Qui No 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 Non devi farlo Perché sta scistica Attenzione No no Sulla sabbia Solo fai più di tre volte E poi appare il diavolo Appare per 66 volte Attenzione l'ultima Oh ma sbaglia L'ultima L'ultima bandiera Andato fuori pista No torna niente Non parlare con quell'uomo Non devi parlare con quell'uomo Prima devi Perfetto direi che possiamo fermarci Su questa allegra spiaggia Chi sarà quell'uomo Cosa vorrà fare con quella barca Chi c'è dentro quella barca Berlusconi È un latitante Risponderemo a queste domande Nella prossima parte Quindi se la parte vi è piaciuta Lasciate un bel mi piace Perché ci sono gli schizzi Siamo sulla legna Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Alla prossima parte Ciao a tutti Ciao ragazzi